Musica Sequestrati beni per 5 milioni di euro a due dirigenti del pugliese Ciaccio di Catanzaro irrigavano il campo con l'acqua della rete pubblica denunciati per furto a Meli Cucco nel Regino Cittadinanza onoraria a Gioia Tauro al corpo della Guardia di Finanza Truffe agli anziani nel Crotonese, appello del comandante provinciale dei Carabinieri Salve e ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV La Guardia di Finanza di Catanzaro ha sequestrato beni per oltre 5 milioni di euro a un ex direttore generale e un ex direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro La Guardia di Finanza di Catanzaro ha sequestrato beni per oltre 5 milioni di euro ad un ex direttore generale, ad un ex direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro in quanto avrebbero provocato un rilevante danno erariale derivante dal mancato introito di ingenti somme nelle casse dell'azienda ospedaliera a causa di un anomalo accordo transitivo stipulato con la clinica privata Villa Sant'Anna In particolare il pugliese Ciaccio vantava cospicui crediti nei confronti della casa di cura a seguito dell'accessione di sangue e di prodotti emoderivati e aveva avviato nei suoi confronti due distinte procedure esecutive ottenendo i relativi decreti ingiuntivi ai quali Villa Sant'Anna rispondeva con due contenziosi civili A questo punto è stata emessa una prima pronuncia giudiziale favorevole all'azienda ospedaliera pubblica ma il management di quest'ultima nel 2014 decideva di stipulare un accordo transitivo con la clinica con il quale le due parti si accordavano per chiudere i contenziosi con la corrisponzione all'ente pubblico da parte di Villa Sant'Anna di una cifra assai ridotta rispetto a quella pretesa e in gran parte già riconosciuta come dovuta dal giudice civile cagionando così un danno erariale di oltre 5 milioni di euro Secondo la procura contabile l'attività amministrativa dei due dirigenti sarebbe stata realizzata attraverso l'approvazione di atti illegittimi in quanto non formalizzati e non iscritti a bilancio dell'azienda ospedaliera ed emessi in violazione degli ordinari provvedimenti previsti dalla legge per la conclusione delle transizioni e in definitiva avrebbe consentito all'impresa privata di ottenere un vantaggio assolutamente immotivato e ragionevole Da qui il provvedimento di sequestro conservativo Pronto soccorso dell'annunziata di Cosenza sotto pressione e centinaia le persone al giorno che si riversano anche se in alcuni casi basterebbe una diagnosi del medico di famiglia La situazione nei pronti soccorsi degli ospedali periferici della provincia di Cosenza è indubbiamente critica con un flusso costante di pazienti che a questo punto affollano il pronto soccorso dell'ospedale annunziata il quale nonostante si sia classificato come idea di secondo livello per l'alta specialità si trova ad accogliere un gran numero di pazienti con patologie comuni come febbre, otiti, tonsilliti, attacchi di panico e coliti Queste malattie, sebbene non gravi contribuiscono a riempire la lista degli accessi impropri con un'affluenza di persone disperate che non hanno trovato assistenza nei servizi territoriali tra medici di famiglie irraggiungibili e guardie mediche chiuse per mancanza di personale L'incapacità della rete territoriale di fornire un'assistenza adeguata spinge un esodo di pazienti verso il pronto soccorso dell'annunziata che ogni giorno accoglie centinaia di malati provenienti da tutta la provincia indipendentemente dal loro stato di gravità Tuttavia, la carenza di posti letto in tutti i reparti e il personale ridotto complicano ulteriormente la situazione costringendo i pazienti a lunga attese nei corridoi per una visita o per un referto Il report dell'Agenas ha evidenziato la criticità del sistema di emergenza urgenza confermando uno scenario cristallizzato nel 2022 quando la Calabria si trovava al tredicesimo posto nazionale nel territorio dell'aspe di Cosenza sono stati registrati un elevato numero di accessi in codice bianco, verde, giallo e rosso con l'ospedale annunziata che ha dovuto affrontare una parte significativa di questi casi nonostante alcuni non risultassero gravi Ancora spari ad Amantea, a tre mesi dall'intimidazione, sul cantiere della Galleria di Coreca sono stati esplosi nella notte colpi di U da un fucile a pallettoni e contro la vetrina di un'agenzia funebre in pieno centro I colpi avrebbero raggiunto anche un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'attività Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Amantea e quelli della compagnia di Paola E' stato inaugurato il secondo centro di raccolta rifiuti del comune di Vivo Valencia Sarà fruibile per tutti i residenti delle frazioni marine dal lunedì al sabato La città di Vivo Valencia si distingue come uno dei centri di maggiore successo per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti Un salto di qualità dalle proporzioni insperate che ha avuto la sua accelerazione in questi quasi cinque anni di gestione da parte dell'assessore comunale all'ambiente Vincenzo Bruni Questa mattina a consolidare l'andamento positivo l'apertura del centro di raccolta comunale dei rifiuti in località Ciamentificio a Bivona Presenti gli addetti al servizio insieme all'assessore Bruni sono state illustrate le modalità di fruizione del centro di raccolta il secondo sul territorio comunale dopo quello già attivo in località Aeroporto Vivo Valencia Da oggi una nuova piattaforma che dovrebbe coprire tutta la zona delle marinate Sì, con questo ultimo intervento chiudiamo il cerchio sul ciclo dei rifiuti quindi abbiamo dato ai cittadini la possibilità di differenziare in qualsiasi modo con isole ecologiche, centri di raccolta, servizio porta a porta che diciamo che è eccellente quindi non c'è nessuna scusa per i cittadini abbiamo ritardato volutamente l'inizio lavori di questo centro di raccolta perché allora c'erano state alcune polemiche perché la gente ancora non aveva ben focalizzato l'utilità del centro di raccolta quindi abbiamo preferito avviare prima quello di Vibbo a febbraio 2022 partire con questi lavori e ora li diamo alla città, li regaliamo alla città Cosa dire proprio alla popolazione in merito alle preoccupazioni iniziali soprattutto in merito ai vantaggi che avrà? Ma preoccupazioni non ce ne possono essere perché rispetto a tutti i criteri ambientali e le norme in materia quindi non c'è nessuna preoccupazione vantaggi sono infiniti perché vicino casa avere la possibilità di smaltire una televisione piuttosto che una lavatrice, un neon, un toner ma anche portare con la modifica al regolamento la plastica, la carta, il vetro senza aspettare il giorno dedicato da calendario è un vantaggio per i cittadini importante in più può consentire alle amministrazioni di fare dei concorsi a premi per cui tutto il rifiuto che entra qua viene pesato come a Vibbo quindi ai cittadini più virtuosi in un bilancio virtuoso come quello che stiamo lasciando ai cittadini possiamo anche, si può pensare di garantire delle premialità e diciamo orari e giorni di servizio? Allora il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 di mattina alle 12 e dalle 15 alle 17 il sabato è aperto dalle 8 alle 12 nel periodo estivo con l'inizio della stagione estiva verrà aperto anche il sabato pomeriggio e la domenica mattina Trattandosi di una zona turistica questo significa che anche i non residenti possono venire? No, i non residenti no perché non sono registrati al ruolo Tari per i non residenti è normale che ci sono le condizioni di servizio porta a porta perché comunque una casa, il proprietario di una casa è registrato al ruolo Tari quindi il servizio viene garantito sul posto al centro possono accedere solo i residenti nel comune di Vibbo dimostrandoci e presentando il codice fiscale I carabinieri della stazione di Melicucco hanno denunciato tre persone per furto di acqua dopo aver scoperto che per irrigare il loro campo pieno di alberi da frutto avrebbero utilizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica l'allaccio così realizzato configurerebbe il reato di furto aggravato il che aumenta le pene previste e le aggrava quando il fatto è commesso su cose destinate al pubblico servizio o pubbliche autorità grazie all'intervento dei carabinieri dunque l'utilizzo illegale dell'acqua è stato interrotto Cambiamo argomento, incontro dalla tema violenza di genere si è svuoto a Reggio Calabria presso Spazio Open tavolo tematico a più livelli per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere una vera e propria pandemia ombra che ha raggiunto dei numeri allarmanti L'uomo carifo rientra nella categoria del narcisista nello specifico di un tipo di narcisista che è tra virgolette il narcisista maligno ovviamente ci sono vari gradi di malignità il califo è un tipo particolare di narcisista perché si caratterizza per il fatto di contornarsi di donne che lo accudiscono sostanzialmente c'è la favorita e poi tutta una serie di donne che attendono ai suoi bisogni ed sviluppa chiaramente delle relazioni cosiddette tossiche che sono però sempre delle relazioni di codipendenza nel senso che le donne che incappano in questa figura di uomo ballano insieme a lui quindi non è possibile sviluppare una relazione tossica se uno dei due non c'è il consenso quindi non è consensiente e sviluppano delle relazioni che io chiamo di califato dalle quali nel libro vengono messe in atto una serie di strategie per potersi liberare da questo tipo di relazioni che sono particolarmente invischianti che creano una forte dipendenza e che vanno trattate proprio come delle forme di tossicodipendenza affettiva una tematica molto antica se dobbiamo parlarne dobbiamo cominciare dallo spodestamento della Magna Mater Mediterranea che era la divinità che dava la vita a tutti gli esseri a tutto il mondo ed era concepita come un grandissimo utero esposto alla pioggia del cielo e lo spodestamento di questa divinità femminile che aveva dei pare droi maschili cioè divinità con un rapporto da madre a figlio e quindi sottoposti dalla religione dei dodici dei i dodici dei olimpici inaugurano una religione maschilista che ritrova il capo supremo in Zeus e che subalterne in una maniera varia tutte quante le altre divinità convegno nell'auditorium della scuola secondaria di primo grado giudice Scopelliti Corrado Alvaro a Reggio Calabria dove si è parlato di bullismo e in particolare di cyberbullismo con particolare attenzione sui rischi che i giovani corrono sui social soprattutto il problema di quello che sono addormenti oggi i social e tanti altri strumenti che vengono sottovalutati soprattutto sotto i profili della privacy perché i ragazzi ma anche gli adulti purtroppo a volte non valutano il fatto che davanti a un dispositivo che comunque io lo dico sempre è dotato di un microfono e una videocamera siamo esposti al mondo intero talvolta si pensa di essere noi e l'altra persona o del cuore o comunque la persona in ogni caso dove ci sono degli effetti particolari e in realtà siamo proiettati al mondo intero quindi io dico sempre ai ragazzi che tutto ciò che viene fatto sul web è scolpito sulla pietra ma non solo non è diciamo cancellabile in termini di tempo e anche dispositivi che talvolta i ragazzi pensano di poter formattare ma anche gli adulti ripeto perché questo è un discorso diciamo rivolto a tutti sono i dati perfettamente riesumabili oggi il web o più che mai non dimentica specie con l'avvento dell'intelligenza artificiale di cui ne fanno un ricorso smisogato i ragazzi in particolare oggi si parla di un fenomeno di un problema molto attuale in effetti la rivoluzione informatica è indubbiamente un fenomeno epocale che ha profondamente modificato la nostra vita le nostre abitudini il nostro modo di lavorare e sono molti gli aspetti positivi di questo fenomeno che tuttavia nasconde anche enormi pericoli spesso sottovalutati sui quali è altamente opportuno soffermarsi infatti lo stesso strumento mi riferisco alla rete al telefonino al computer lo stesso strumento che ci consente di allargare in maniera significativa gli orizzonti della nostra conoscenza se viene impropriamente utilizzato può diciamo provocare dei danni al pari di una sostanza stupefacente mi riferisco per esempio alle challenge alle sfide che furoreggiano tre ragazzi appunto sui social che possono provocare danni irreparabili alla loro serenità alla loro salute mentale qualche volta provocano dei gesti estremi che noi vogliamo cercare di di prevenire e in qualche maniera di contenere infatti la finalità di questo convegno è esattamente quella di aprire gli occhi di sensibilizzare studenti ma soprattutto famiglie sui pericoli insiti in questo utilizzo improprio dei social del computer della rete dei telefonini in maniera che da suggerire anche delle vie corrette proprio per evitare questi pericoli e non rinunciare alle enormi potenzialità che questi strumenti offrono un tema attualissimo soprattutto da rivolgere ai minori ma da non escludere gli adulti oggi siamo qui per sensibilizzare le famiglie non solo la comunità educante non solo i ragazzi ma anche genitori e docenti sul tema della dipendenza e dell'uso prolungato dei social che in realtà può provocare delle gravi patologie quindi proprio per questo motivo abbiamo creato un tavolo di lavoro abbastanza forte quindi provocheremo delle reazioni abbastanza forti proprio perché i minori vanno già informati e formati già da questa età il comandante provinciale dei carabinieri Raffaele Giovinazzo ha parlato di truffe a danno di persone anziane in forte aumento nella crotonese lanciando un appello persone fragili in particolar modo agli anziani perché nell'ultimo periodo negli ultimi mesi si sono verificate una serie di tentate truffe in danno appunto di persone anziane anziani insomma nessun carabiniere può presentarvi a casa vostra per chiedervi somme di denaro il comandante dei carabinieri di Crotone Raffaele Giovinazzo ha messo in guardia le persone anziane dalle truffe messe in atto da veri e propri professionisti del crimine invitando a diffidare da persone che vessendosi d'autorità utilizzano il telefono per comunicare possibili disgrazie o eventi incresciosi che riguardano i familiari per avere in cambio delle somme di denaro si presentano vestiti da carabinieri con un italiano forbito è per tirare i figli fuori dai guai chiedono monili o somme in denaro l'appello che ci sentiamo di lanciare come arma dei carabinieri è quello di stare attenti a queste attività delittuose che vengono commesse nell'ultimo periodo in questo territorio relative a delle truffe in danno di persone anziane la tecnica è quella del finto maresciallo dei carabinieri che arriva a casa per prendere dei soldi o dei monili in oro per poter scagionare un familiare oppure perché il familiare ha avuto un incidente quello che mi sento di dire è che noi carabinieri come anche le altre forze di polizia non chiediamo mai del denaro quindi già questo tipo di richiesta per voi deve essere un campanello d'allarme ad avvisare le forze di polizia affinché si intervenga per bloccare questa tecnica criminale che assolutamente crea un po' di allarme sociale specialmente laddove le persone offese e le vittime sono persone fragili persone anziane che magari si trovano da sole e sono purtroppo senza sostegno o aiuto l'appello che ripeto rinnovo è quello che le forze dell'ordine non chiedono denari e soprattutto il tipo di approccio non è quello di arrivare presso l'abitazione con dei nostri marescialli magari in borghese a chiedere oro o monili e questo tipo di richiesta per voi deve essere soprattutto per le persone anziane e per i parenti di queste persone anziane che lo vengono a sapere deve essere un campanello d'allarme per darci la possibilità di intervenire e evitare che la truffa venga consumata si è tenuta a Gioia Tauro la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al corpo della guardia di finanza e di intitolazione della via fiamme gialle si è tenuta a Gioia Tauro alla presenza delle massime autorità civili militari e religiose la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al corpo della guardia di finanza e di intitolazione di una delle vie alle fiamme gialle proprio vicina alla sede attuale del corpo che dal 2010 si trova sulla statale 111 in un immobile confiscato alla mafia un doppio evento particolarmente significativo perché avviene nell'anno in cui il corpo celebra i 250 anni dalla sua fondazione il sindaco della cittadina della Piana ha spiegato perché il comune ha deciso di onorare la guardia di finanza presente già dal 1955 sul territorio quale baluardo di legalità e di civiltà ringraziandola per l'impegno e il sacrificio di chi ha tutelato la libertà dei cittadini contro le prevaricazioni e gli abusi gli illeciti e arricchimenti contrastando il malaffare il traffico di droga l'accumulo mafioso di patrimoni imponenti partecipando così al percorso di crescita globale economica sociale e culturale di Gioia Tauro dal canto suo il generale di corpo d'armata Rosario Lorusso ha ringraziato per la stima ricevuta dall'amministrazione comunale rivolgendo un particolare omaggio per l'impegno dimostrato agli alunni degli istituti primari e secondari coinvolti nell'evento con la partecipazione ad un concorso letterario e artistico espressione chiara di sensibilità verso il tema dell'egalità e all'orchestra composta da giovani alunni dell'istituto comprensivo Francesco Pentimalli di Gioia Tauro che ha allietato la cerimonia con un breve intrattenimento musicale concludiamo con una notizia di sport regionale riparte il football americano a Crotone per gli Achei di Crotone che hanno battuto i briganti di Napoli dopo anni di attesa gli Achei Crotone sono tornati finalmente nella loro casa presso un settore B completamente rinnovato e con una vittoria condita dal risultato 20 a 0 coach di questa stagione in terza divisione sono Giacomo Gagliardi e Michele Fumarola protagonista al settore B è stato lo sport sul nuovo manto in erba sintetica dove i crotonesi hanno battuto i briganti di Napoli insomma inizia questa nuova stagione quali sono gli obiettivi? allora gli obiettivi per la stagione sono è difficile da spiegare nel senso perché noi quest'anno di solito si dice sempre vogliamo vincere qua vogliamo vincere là vogliamo fare un tot di vittorie noi quest'anno stiamo cercando di creare un qualcosa abbiamo un progetto che vuole andare a lungo termine a creare una realtà che è già consolidata da più di 30 anni a crotone farla crescere ancora di più cercando di arrivare a obiettivi sempre più alti ma costruendo delle fondamenta veramente solide e grazie parlo di questo perché stiamo lavorando con i nostri vicini nel senso che quest'anno abbiamo una grandissima collaborazione dai ragazzi dalla Puglia che hanno aderito al progetto già dall'anno scorso alcuni altri si sono aggiunti in maniera molto forte sentono molto questa la maglia la nostra squadra i nostri compagni siamo già una grande famiglia e stiamo lavorando per costruire un qualcosa che possa crescere e dare sostanza importante al territorio come abbiamo già fatto negli ultimi 30 anni ma sempre andando avanti vi piace questo nuovo settore B? ci piace abbiamo penato un pochino perché le difficoltà di questa stagione nascono proprio dal fatto che abbiamo iniziato tardi perché il settore B è stato consegnato adesso quindi siamo stati senza casa nostra per per tanto tempo però adesso siamo qui è bellissimo speriamo di oronare Defensive coach Michele Fumarola nel football americano un nome ben noto Michele è una gran bella persona diciamo che ha un palmarès di tutto rispetto ma noi ci siamo conosciuti l'anno scorso abbiamo deciso di lavorare insieme perché abbiamo lo stesso modo di pensare diciamo nel campo che sia giusto che sia sbagliato abbiamo trovato un punto di incontro e questo punto di incontro ci sta facendo lavorare bene basta pensare che ha vinto un campionato di football a 7 l'anno scorso quest'anno insieme perché anche i nostri compagni di squadra io compreso siamo andati a Bari a dargli una mano abbiamo giocato una finale quindi è un allenatore con i giusti principi che sa settare la squadra come deve noi siamo stati felicissimi di riconfermarlo termina qui il nostro telegiornale grazie per averci seguito grazie per aver guardato il nostro canale